Filippa Island, la pista più bella dove può continuare la battaglia tra Dovizioso e Marquez, secondo dei quattro round prima di Malesia e Valencia. La pioggia ci sarà, così come la temperatura più bassa, aspetti che potrebbero essere dei punti a favore dell'italiano, così come il motore Ducati sui 4.500 metri, con sette curve a sinistra e cinque a destra, ma è anche una pista dove premia il ritmo più che le staccate, materia cara ad Esmodovi. La conferenza stampa del giovedì ci consegna anche un Marquez che ammette di aver considerato, anche quando bisogna essere più strategici per avere la meglio, su un pilota freddo, lucido, che ragiona a 300 km all'ora, che sa quando può lanciarsi in un corpo a corpo che può rivelarsi anche vincente, come il sorpasso all'ultima curva sulla pista di Moteghi, consapevole dei suoi mezzi. Il pilota che ha vinto di più qui è Rossi, con otto successi, ma oggi il dottore ha una doppia preoccupazione. La prima è fisica, dopo la botta rimediata alla spalla nella caduta giapponese, la seconda forse fa ancora più male, ed è l'incertezza tecnica di una Yamaha che non è in crescita, anzi ha fatto il passo del gambero, soprattutto sul bagnato. Cosa possono fare Vignales, Lorenzo, Iannone, Leapriglia, Pedrosa e Petrucci sono delle variabili difficili da valutare, anche comprendere il peso specifico nel quale possono avvantaggiare Marquez o Dovizioso in ottica mondiale. Da Philippa Island, Australia, per Sky Sport 24, Sandro Donato Grosso. Andrea Dovizioso arriva in Australia con il morale alto dopo la quinta vittoria stagionale, la sedicesima in carriera. Il pilota Ducati ne avrà bisogno per affrontare una pista dove ha vinto una sola volta ai tempi della 125 e dove con la Ducati non è nemmeno mai salito sul podio. Inoltre, le due sole vittorie di Marquez in carriera a Philippa Island non devono ingannare. Lo spagnolo in MotoGP è arrivato primo nel 2015, ma anche nel 2014 e l'anno scorso è caduto quando era in testa con buon margine. Gli 11 punti di distacco che Desmond Ovi ha sullo spagnolo sono quindi un handicap sensibile. Sia per il fatto che delle tre gare rimaste due si corrono su piste favorevoli alla Honda e a Marquez, ma anche per lo svantaggio in sé. Dei 15 titoli MotoGP assegnati infatti fino ad oggi, 8 sono stati decisi nelle ultime tre gare. Di questi precedenti però, solo due inseguitori sono riusciti a recuperare lo svantaggio in un lasso di tempo così breve. Lorenzo nel 2015 e Aiden nel 2006. Anche la storia insomma è un avversario in più perdovizioso, che dovrà provare a battere sia Marquez che le statistiche per laurearsi campione. Per Sky Sport 24, Guido Sassi. Valentino, allora, come stai con la spalla? Sei sofferente oppure sei a posto? Ce la fai? Sto un po' male, sono abbastanza sofferente, mi dà un po' fastidio, però sembra che comunque non ho rotto niente, che è molto importante, però mi fa un po' male. Quindi spero domani mattina che non mi dia troppo fastidio mentre guido. Arriviamo in questo Gran Premio in un momento un po' difficile tecnicamente, perché stiamo soffrendo. Quindi bisognerà mantenere la calma e cercare di capire e cercare di essere più competitivi rispetto a Motegi. Io cerco di spiegare al massimo possibile ai giapponesi quello che sento quando guido la moto e loro cercano di lavorare. Quindi bisogna naturalmente lavorare bene per l'anno prossimo, ma al tempo stesso lavorare bene anche per questo weekend. Spero vivamente che sarà asciutto, perché sul bagnato siamo veramente in difficoltà. Ma a Motegi è stato un weekend anomalo, tutti i turni sotto l'acqua, quindi è stata una situazione strana. Comunque abbiamo tutti e due dimostrato di essere sul pezzo, come posso dire. Siamo pronti per giocarcela perché siamo stati veloci tutto il weekend e siamo quelli che abbiamo fatto la differenza in gara. Però a parte questo, adesso bisogna vedere che condizioni troveremo qui a Filippa Island, che il meteo comunque condiziona tanto le prove il weekend. È una pista molto diversa, non facile. E sappiamo che Marquez è molto veloce, però secondo me in questo momento noi siamo veloci, siamo competitivi e dobbiamo cercare di approcciarla come abbiamo fatto le ultime gare. Perché fa la differenza riuscire a partire tranquilli, lavorare bene e arrivare pronti in gara. Dobbiamo vedere le condizioni in cui troveremo, però credo che saremo più competitivi del passato. L'impressione la senti perché ci tieni e l'obiettivo è quello. Però sì, è vero che questo ti fa approcciare il weekend in un modo un po' più rilassato. E questo secondo me è la realtà ed è come deve essere. Può aiutare solo a noi nel cercare di essere più a posto possibili e analizzare tutto quello che succede in un modo più rilassato. Siamo tirati, si parla di piccoli dettagli, quindi anche questo può fare la differenza. Ogni circuito è diverso e qua ci possiamo trovare una condizione di asciutto o anche di condizione miste, non di bagnato completamente come era il caso di Pioia fortissima. Il peccato di Moteghi è che abbiamo fatto 4-5 allenamenti con Pioia non ligera, però non tantissima, ma la gara ha caído un aguacero incredibile e con queste condizioni magari il nostro setting non era l'adequato e anche io non ho guidato con la stessa confidenza che con meno acqua. Quello è stato il problema, però qua sembra che domani sarà asciutto, sabato non si sa, domenica non si sa, però può essere... non penso che sarà l'acqua di Moteghi. Andrea Dovizioso gioca per il Mondiale. Secondo te, come se non fossi coinvolto e non lo sei, che cosa deve fare in più per poter battere un talento come Mark Marquez? Secondo te, lui secondo me deve provare a fare lo stesso che ha adesso, che sta facendo, sta tolendo il massimo di punti sempre, senza esbagliare, sempre atacando nel momento giusto, conservando e siendo intelligente quando non se può atacare. Eso lo sta facendo alla perfezione, solo che Marquez è molto veloce, molto explosivo, e sempre va molto forte. Però, per una parte, Marquez Magari tiene una propria explosività, veloceità, però Dovi mai esballa e quasi mai cade. Quella è la sua principale baza e che dopo è molto intelligente sulla moto. Le forse sono molto ugualate, però sarà interessante vedere qui può vincere. Grazie a tutti per aver guardato il video,